Con Bertini, oggi tanti amici, hai visto? Tu ti sei invecchiato, tu che sei molto social No, non mi sono invecchiato, ma perché già ho una certa età, quindi non c'è bisogno in realtà Però, vabbè, è giocoso, no? Come vedersi poi nel futuro Ma credo che, guarda, ogni età ha un suo fascino E credo che l'essere diversamente giovani, quindi raggiungere anche i 50, i 60, i 70 anni e anche gli 80 Si ha un traguardo meraviglioso, dove hai raggiunto una tua maturità non solo professionale ma personale Sono d'accordo, sono d'accordo, io sono orgogliosa di dire la mia età, ad esempio, anche se dopo i 40 Ma tu sei giovane, tu sei giovanissima Io tra poco compio gli anni Lo so, infatti volevo approfittarne dopo Fra pochissimo Nei saluti sabato, compierai gli anni, quindi auguri da tutti noi 48, quindi Però adesso, tornando ai social Io ho visto che tu hai postato tantissimi messaggi di personaggi dello spettacolo e non Non è che ti facevano gli in bocca al lupo, no? Per questa nuova avventura Tanti amici Non è tanto nuova, nel senso che ormai sei in onda alla vita in diretta estate Insieme a Lisa Marzoli, che voglio salutare Salutiamo Lisa, la mia regina La tua regina E naturalmente poi vi aspettiamo oggi pomeriggio Ma certo, non ti preoccupare 16 e 50 sul Rai 1 Tra pochissimo, però c'è un messaggio, secondo me, il più importante che hai ricevuto Guardiamo Ciao Peppe, in bocca al lupo la nuova trasmissione Ti voglio bene, ciao Ma della tua mamma, che poi è qui Perché non ha fatto una sorpresa a te perché è venuta con te Ma ha fatto una sorpresa a me Signora, si faccia abbracciare, sono veramente felice Diamo un bacio alla mamma E viva la mamma Perché lo so che è da sempre il tuo punto di riferimento Addirittura, Beppe, ho saputo che tu, signora, dica qualcosa se non è d'accordo Che tu la porti in vacanza con te, le fai scoprire dei posti che prima non conosceva Sì, tutti gli anni andiamo in vacanza almeno tre settimane in Italia Perché, come dicevo prima, l'Italia è il posto più bello al mondo Quindi Puglia, Calabria, Sicilia E quest'anno, appunto, lavorando alla vita in diretta estate Ho chiesto a mamma di raggiungermi E quindi trascorrere un po' di vacanze romane E come si scopre questa meravigliosa città che è la più bella del mondo E lei mi segue dappertutto e sono molto molto felice E beh sì, direi Siamo stati anche in Abruzzo E chi sa quanto è orgoglioso di suo figlio in questo momento Che è un momento bellissimo, straordinario anche della tua vita lavorativa Hai fatto tante esperienze Poi prima volevo parlare di te da modello Ma insomma, non c'è tempo, tanto il fisico lo fa capire Tanti anni fa, insomma, ormai 1920 Quando lavoravo da modello Che lo facevo soprattutto per mantenermi agli studi all'Università di Torino E per aiutare la famiglia Perché avendo perso papà a 17 anni Dovevo occuparmi delle mie donne Quindi mia madre, delle mie sorelle Maria e Anna Poi lasciare i nipotini Nipoti, bisnipoti Insomma, fra l'altro ho donato il secondo nipote E di Talba, la più grande dei miei nipoti Sono stati da me a studiare Quindi insomma ho fatto un po' da papà in seconda A Milano Quando vivevo a Milano È stata un'esperienza davvero indimenticata Senti, prima di annunciare la grande novità Perché tu sarai alla conduzione di uno dei programmi storici di Rai Uno Voglio farti vedere alcune immagini Che riguardano un po' la tua carriera televisiva Vediamo Grazie Dopo, ecco, aver vinto un titolo del genere Cercare di sfruttare un po' altri doti Che possono essere quelle culturali O comunque altri mezzi Non solo il mezzo bellezza, ecco Scusami, ti ho rubato questi tre minuti Non volevo essere Sono stati tre minuti più interessanti della mia serata, guarda Lorenzo, che c'era? Beh, ciao, Lisa Ciao Ciao, Lisa Fiction di grande successo Un dilo al mio capo Con Vanessa incontrata Proprio su Rai Uno Insomma, Rai Uno sforna grandi successi Da mister Italia a conduttore di linea verde Un grande salto Sarai emozionato immagino Beh, molto emozionato Perché io viaggio per tutta l'Italia Ormai da 30 anni Con i miei torni teatrali Con i miei spettacoli in piazza Con tutto quello che sono poi i set cinematografici e fiction E quindi conosco l'Italia come le mie tasche Il posto più bello al mondo Vado a scoprire le bellezze naturali, paesaggistiche, architettoniche, artistiche E in questo caso andiamo a scoprire le eccellenze della nostra splendida penisola Eccellenze del settore dell'agricoltura Naturalmente dell'enogastronomia Quindi sarà un viaggio meraviglioso Poi io ti ci vedo in mezzo alla gente Perché tu sei uno comunicativo, uno empatico Ti fai amare dal pubblico Insomma, Beppe, te lo meriti Prima di salutarti voglio ricordare questo libro Che tu hai scritto dopo delle bellissime esperienze di missioni umanitarie Che hai fatto perché non tutti sanno e conoscono il tuo cuore La tua anima, la tua grande sensibilità I bambini di nessuno Sì, bambini di nessuno, edito da Ad Maiora È un racconto fotografico con diari di bordo Delle mie ultime missioni umanitarie per Terdesom Nei campi profughi siriani e in Birmania Dove appunto ho incontrato i bambini di nessuno Perché nessuno si occupa più di loro Non hanno più un futuro Parlo dei bambini siriani che hanno subito appunto Una guerra civile che ha provocato centinaia di migliaia di vittime E milioni di profughi Gran parte di questi bambini sono profughi e anche orfani E poi i bambini rowinga in Birmania Che vengono trucidati e cacciati in Bangladesh Da un regime davvero dittatoriale Insomma esperienze molto forti Sì, esperienze fortissime Tornerò presto, spero di andare in Mauritania E noi trattiamo anche degli argomenti molto forti Come le spose bambine Come naturalmente l'infibulazione Insomma argomenti surreali, argomenti assurdi Che però vanno comunicati e vanno conci Ma in una realtà come quella di oggi Dove tutto ciò non dovrebbe assolutamente esistere più Invece ancora dobbiamo trattare e parlare di questo Perché bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica Perché certe pratiche arcaiche Come appunto dicevo l'infibulazione E appunto questo modo di porsi delle spose bambine Appunto costrette a sposarsi uomini molto adulti E a diventare mamme da ragazzine Naturalmente distruggendo quello che sono i loro futuri E quindi con delle conseguenze psicofisiche irrimediabili Grazie a te Grazie per questa testimonianza In bocca al lupo per tutti Ti seguiremo oggi pomeriggio Alla vita in diretta estate